C'è la storia di questo governo, io penso sì, tutto vero, anche quello che ha appena detto Cirino Pomicino sul fatto che c'è un atteggiamento non da partito di governo, e certo stiamo parlando del Movimento 5 Stelle di un partito che era entrato per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno e adesso si ritrova a governare ad aver governato, a essere in una posizione complicatissima perché ci sono le scelte fatte, le scelte da fare con due governi di orientamento opposto, quindi è chiaro che stiamo facendo i ballerini di tango, è evidente e qualche volta può anche tornare utile dover andare in Albania per un motivo molto serio. Tuttavia io penso che questa vicenda vada giudicata così un po' più nel suo contesto. Noi stiamo parlando con i numeri di un Parlamento di un governo possibile, ce n'erano altri possibili. Io credo che se ci fosse ancora oggi il governo giallo-verde, per scendere molto al concreto, il governo giallo-verde non avrebbe retto alla spinta populista innescata da Salvini per dire no al MEF, perché il Movimento 5 Stelle gli sarebbe andato dietro e avrebbe trascinato il governo in una situazione di fatto di rottura con l'Europa e rispetto alla nostra presenza nell'Europa. Il governo che sarebbe uscito dalle elezioni a settembre, che sarebbe un governo verde-verde, probabilmente avrebbe buttato all'aria l'accordo da se stesso in versione giallo-verde negoziata. Quindi questo governo in questo momento è quello che tiene a capo lì.